Amici dell'Esperto risponde, buonasera e bentornati dal vostro Antonio Gescalchi, di nuovo insieme per parlare di argomentazioni fiscali, sia dal punto di vista del lavoratore dipendente, sia dall'occhio dell'imprenditore e, perché no, del libero cittadino a carattere generale, a 360 gradi. Questa sera parliamo di un argomento importante, un argomento che tutti noi abbiamo affrontato da poco, quello della dichiarazione dei redditi, ovvero della differenza che c'è fra l'unico e fra il modello 730. Che cos'è che differenzia innanzitutto il poter effettuare il modello unico o il modello 730? La prima cosa che è fondamentale è avere un sostituto d'imposta. Per cui, chi ha un lavoro e quindi può avere un sostituto d'imposta, può effettuare il modello 730, in quanto il sostituto d'imposta datore di lavoro potrà, per conto del lavoratore, operare le trattenute se dovute oppure erogare il credito se questo è dovuto da parte dello Stato. Nel caso in cui invece non vi sia un datore di lavoro, quindi non vi sia un sostituto d'imposta, sia in caso di credito, sia in caso di debito, vi è l'obbligo di effettuare l'unico. Ovviamente sostanzialmente ci sono pro e contro. Il pro di un modello 730 qual è? Quello in caso di credito, di poter avere immediatamente l'importo del credito stesso, regolarmente pagato in busta paga, dice il datore di lavoro. Ok, perfetto, io anticipo i soldi al mio lavoratore dipendente, 500 euro. Ma come posso recuperarmi questi 500 euro che di fatto sono dovuti dallo Stato? Ebbene, come ce li recuperiamo? Ce li recuperiamo in modello F24. Quindi quando noi andremo a versare, sempre come sostituto d'imposta, l'IRPF per conto dei nostri dipendenti, facciamo un esempio, l'IRPF da versare 1000, abbiamo erogato 500 per un imborso 730, andremo a versare la differenza, ovvero 500 euro in F24. Attenzione ai lavoratori dipendenti, se siete tanti in azienda e tutti quanti avete un credito, non potete ricevere nella vostra totalità più di quello che il datore di lavoro verserebbe in F24 come trattenute IRPF. Semplificando, siete in 5, tutti e 5 in busta paga, andate a pagare 1500 euro di contributi, anzi di tributi IRPF, quindi che l'attore di lavoro vi trattiene in busta e versano in F24. Se la totalità dei vostri crediti 730 ammonta 1000 euro, va da sé che non vi è capienza per potervi pagare tutti quanti insieme, perché se 1000 euro è l'importo credito da versare e faccio un esempio, io ho detto 1500 ma ovviamente meno, l'importo dell'IRPF da versare in F24 è di 800, ecco lì che 200 euro non raggiungono la capienza, di conseguenza si potrà rimborsare solo la quota di 800 ripartita in ugual misura fra i vari lavoratori dipendenti. Il mese successivo si potrà prendere eventualmente la differenza. Nel modello unico invece se avete un credito dovete fare poi una richiesta eventualmente di rimborso oppure portarla per l'anno successivo nel caso riuscisse a fare il 730 e quindi non è esigibile immediatamente ma si può esigere negli anni successivi o con un modello 730 e quindi l'anno dopo oppure se dovete continuare a fare l'unico entro i 5 anni successivi. La differenza e l'altra differenza è quella che l'unico deve essere effettuato solo se non vi è sostituito. Invece il 730 possiamo effettuarlo con il sostituto di imposta sia a debito che a credito e soprattutto possiamo farlo anche se abbiamo avuto più rapporti di lavoro, cioè se abbiamo avuto nell'anno precedente più rapporti di lavoro non è obbligatorio fare il modello unico perché se avete un sostituto di imposta potete conguagliare i redditi per quello che poi eventualmente dovete pagare con il modello unico. Sono due argomenti e due modi di pensare diversi perché c'è chi ha preferenza di fare l'unico perché decide di pagarsi autonomamente l'F24 in caso di debito e invece chi deve pagare e vuole farsi il 730 si trova come col credito, questa volta ovviamente al contrario, automaticamente ha debitato il costo di quello che deve allo Stato come tasse. Può farlo ovviamente in quattro rate, stessa cosa con l'unico con una maggiorazione dello 0,2% su ogni F24 poi calcolato con interessi di legge. Abbiamo affrontato questo argomento, un modello unico, io vi ricordo sempre il modello 730 vi ricordo i nostri programmi, vi ricordo Top Secret con Matteo Valero, Pole Position con Martina Villanova, Startupper con Katia Gangale, poi abbiamo tutti gli altri nostri programmi con il Bastardo Capitalista, anche con Demetra, ricordiamo anche il nostro sito internet www.business24tv.it il nostro contenuto Mercurio, un nostro sito internet che comprende un pochettino tutte le notizie di attualità e che vi riporta poi al nostro sito principale appunto Business24. Abbiamo terminato, vi ricordo la nostra mail che è redazionechiocciolabusiness24tv.it in modo da poterci mandare le vostre richieste per trattare gli argomenti all'esperto risponde, un saluto dal vostro Antonio Scalchi e alla prossima puntata, buonasera a tutti. Grazie a tutti!